Ciao a tutti! Benvenuti sul mio canale Feri ASMR. Io sono Federica e quello che state per guardare è un nuovo video ASMR rilassante, molto molto particolare. Infatti oggi voglio dare inizio a una nuova rubrica qui sul canale, una rubrica che si chiamerà 4 chiacchiere a bassa voce con e ogni volta inviterò un ospite. L'ospite di oggi è molto molto speciale, infatti sto per presentarvi Sara di Sara J ASMR. Ciao a tutti ragazzi! Prima di iniziare mi raccomando lasciate un like se questa idea vi piace e non dimenticate di indossare le cuffie perché così potrete godere al meglio dell'esperienza della ASMR. Stiamo per fare 4 chiacchiere davvero interessanti con Sara. Iniziamo! Allora Sara oggi ti ho invitata qui sul mio divano per approfondire alcuni aspetti di cui solitamente magari non parliamo qui su YouTube e ho preparato per te una tazza di tè, però anche per me, così facciamo anche un po' spill in the tea, un po' di gossip. Spero che ti piaccia, lo prego! Grazie a te per aver accettato l'invito. Allora, la prima cosa di cui voglio parlare è un po' la tua esperienza nel mondo dell'ASMR, quindi raccontaci un po' come si chiama il tuo canale e quando hai iniziato. Allora, io mi chiamo Sara e ho nominato il mio canale Sara J ASMR perché in realtà non c'è un vero motivo, perché non ho un secondo nome che inizia con la J così. Ah, quindi non c'entrava neanche un nome d'arte? Sì, esatto. Perché mi sembra tutto come suonasse e inoltre perché c'erano già alcune omonime che scrivavano Sara. Ok. Quindi volevo avere una particolarità e secondo me suonava anche abbastanza bene. E ho iniziato ufficialmente a fine 2016, ok? Il mio primo video l'ho pubblicato il 27 gennaio 2017. Ah, te lo ricordi? Sì, ho la data. Solo che non esiste più perché l'ho cancellato. Come pare che era una prova che avevo fatto con un vecchio microfono e l'ho gestionato qualche mese. Ti piaceva? No, poi ero più piccola perché avevo iniziato quando avevo 19 anni e anche ripetendolo adesso sarebbe troppo tipo cringe. E quindi però comunque ho iniziato perché mi è sempre piaciuto l'SMR e mi è servito da me stessa per dormire meglio. Quindi mi sono messa in gioco. Senti, a proposito di quello che hai detto prima, appunto che rivedendo questo vecchio video lo troverei un po' cringe, no? Ma ti capita spesso di riguardare dei video tuoi vecchi e di trovarli un po' strani e magari di dire oddio non mi piacciono, non mi rispecchio proprio in quella sala? Allora, sì, li riguardo, però di solito la sensazione non è proprio questa. Nel senso che a volte mi percepisco diversa. Ok. Il fatto è che spesso quando riguardo vecchi contenuti trovo sempre qualcosa di sbagliato, tipo che potrei correggere adesso. Però in realtà proprio per il fatto che ho sempre dato spazio alla creatività, quello che già facevo anni fa mi piace ancora, diciamo. Apprezzo quello che ho fatto in passato. Sei una perfezionista solitamente? Sì, però è un'idea di perfezione diversa, diciamo. Non è per forza quello che uno può intendere per perfezione. Diciamo che secondo me ho sempre cercato di trovare la perfezione per me stessa. Quindi di dare il tuo meglio. Esatto. Ok, questo mi sembra sano comunque. Sì, è una ricerca della perfezione ossessiva magari. No. Ma è più una cercare di dare proprio il tuo meglio. Anche perché per me è diventato proprio un luogo anche dove dare creatività, dove sentirmi me stessa facendo video. Avevo sempre questa possibilità di espormi, di dire la mia, magari aiutando le persone, dicendo qualcosa. Anche che potesse aiutare qualcuno. Quindi lo utilizzi anche come uno strumento per veicolare dei messaggi, il tuo personale? Sì, sì. E che cosa pensi di quelle persone che percepiscono l'SMR come un luogo che in realtà è quasi asentico e staccato dal mondo e non vogliono sentir parlare di discorsi più profondi o comunque di discorsi riguardanti la vita vera fuori dal virtuale, ma semplicemente vogliono sentire suoni rilassanti? Beh, chiaramente ognuno cerca quello che preferisce per attaccatarsi. Io ad esempio l'SMR lo uso anche per compagni, per farmi compagnia, proprio come fruitrice. L'ho sempre fatto. Oppure anche per trarre qualcosa da quello che dicono le persone. Magari mi piace anche scavare la personalità di una persona. Anche io tantissimo. Il fatto è che secondo me appunto io ho un'idea molto varia di ASMR, a me anche i suoni piacciono tantissimo e passo tipo la vita a fare il tapping sulle cose e questo è anche uno dei motivi per cui tra i miei amici conoscenti mi prenderò anche in giro per questa cosa perché... E raccontami, raccontami a proposito di questo. Hai mai avuto magari dei problemi nella vita reale a causa di questo tuo canale che hai aperto con magari conoscenti, amici oppure familiari? Purtroppo sì, soprattutto nel primo periodo perché adesso diciamo che anche se succedesse qualcosa personalmente non mi scalfirebbe più perché ho acquisito una consapevolezza ancora maggiore di quello che sto facendo. Ad esempio i primi periodi facevo fatica a riguardare i miei video perché c'era proprio una percentuale ancora in me che non era sicura di quello che stessi facendo e quindi ero molto più sensibile a quelle cose e era successo una volta dato che io ho iniziato in quinta superiore perché io ho vento anni, cioè piccoli, sì, andavo ancora a scuola quindi ho iniziato in quel periodo e praticamente sono venuta a sapere che il mio ex compagno di classe aveva proiettato un mio video smr sulla lavagna elettronica, no, sulla limb, sul proietto, sì, esatto, non mi ricordo come si chiama e solo che erano presenti dei professori che facevano parte della commissione d'esame e quindi chiaramente lui ha fatto vedere il video dicendo guardate che cosa strana che fa questa ragazza, io ero tipo, solo che lo sono venuta a sapere tramite un mio professore, cioè non quel giorno non c'erai tu? No, io proprio non ero nella sua nuova classe, ho fatto vedere altre persone, cavoli, e questa cosa mi ha fatto molto male all'epoca e un'altra volta mi è successo che sapessi che c'erano delle persone che proprio mi prendevano in giro guardando i miei video e però in quei casi davvero non mi ha mai dato tanto fastidio perché a me importa del parere delle persone a cui voglio bene. Ma oggi come reagiresti per esempio a un evento tipo quello che mi hai raccontato prima? Cosa faresti? La sala di oggi cosa farebbe? Allora, guarda in realtà, probabilmente se fosse una cosa che mi fa davvero stare male probabilmente parlerei con la persona direttamente, scriverei un messaggio o cercare di parlarci proprio faccia a faccia e chiederei ma scusa qual è la cosa che mi fa stare così tanto? Qual è il problema? Esatto, qual è il problema e però in realtà penso che affronterei le cose con più indifferenza perché loro non sanno cosa mi ha portato a fare già e se dicono così significa che il problema è loro perché hanno un cervellino o magari hanno degli strumenti limitati per poter comprare però semplicemente non hanno voglia. Esatto, anche questo. E a proposito di questo ti vorrei fare questa domanda che cosa significa per te essere donna su YouTube e fare video ASMR? Cioè, mi spiego meglio, ti sarà sicuramente capitato da parte di chi non fruisce magari la ASMR di ricevere qualche commento non proprio piacevole? Certo. Penso che mi è capitato. Come la vivi questa cosa? Cosa fai? Guarda, allora, con questa domanda mi è venuto in mente un episodio quando ho fatto quell'esperienza in televisione, quando ho parlato con un'autrice e lei mi aveva detto quello che pensava della ASMR, di cosa ho pensato, diciamo, dietro le quinte, proprio me l'ha detto, ha detto che anche se lei comunque apprezzava l'SMR e provava anche i tingles e sapeva dentro di sé aveva questa supposizione di dire che noi ragazze che lo facciamo in realtà abbiamo indole, come dire, sensuale per una persona e io mi sono trovata in questa situazione e che ero tipo, ok, cioè non sapevo cosa dire sinceramente. Quindi proprio nella realtà ti è accaduto questo episodio, quindi è di fuori, diciamo, della vita virtuale di YouTube. Sì, però secondo me è probabilmente una falsa equivalenza che fanno tra quello che facciamo e il fatto che siamo donne, ma secondo me non è che per forza se io parlo a bassa voce o se guardo la videocamera in maniera anche accogliente, con dei gesti particolari, non c'è niente di male. Certo, anzi a me delle tue potrebbe ricordare di più un atteggiamento materno più che la fidanzata, non so. Poi chiaramente se il fruito remedio si basa su quello YouTuber o quella YouTuber che fa video ASMR, parecchè evidentemente spinti, chiaramente però non c'è metro di giudizio. Penso che comunque si possa capire la differenza, insomma, con te. Assolutamente. Tu pensi che se fossi un uomo il giudizio su di te sarebbe comunque diverso, non avrebbero questo pre-ingiudizio forse? Penso che se devo analizzare quello che pensano le persone che di solito dicono già, mi viene da dire sì. Ok. Ed è una cosa un po' brutta, però ho conosciuto anche YouTuber che fanno ASMR maschi, uno in particolare, e mi ha detto che anche a lui era successo di aver ricevuto commenti negativi anche fuori, quindi secondo me non è una cosa solo delle donne, magari alcuni ti prendono per scemo, ti prendono per fuori di testa, se fai a camera, ma non ho mai capito questa cosa, anzi secondo me è il futuro, molto probabilmente sarà una cosa anche tra anni, sarà normalissima. Esatto, anche se in realtà l'SMR è già da un bel po', però in Italia arriviamo sempre un po' irritate, ovviamente. E invece con i colleghi c'è mai stato qualche problema, oppure non so, ti sei mai sentita esclusa dalla comunità, oppure ti sei sentita sempre accettata da parte della comunità? Allora, sinceramente all'inizio, quando ho proprio iniziato, forse anche per un fatto mio caratteriale, temevo che ci fosse un sentore di esclusione da parte della comunità, ma era una cosa che in un certo senso mi piaceva, perché piaceva, non in maniera amatocchista chiaramente, però mi spingeva a produrre ancora di più, a fare ancora più video, anche se magari non interagivo molto con le persone, ma stavo benissimo, cioè ero nel mio, facevo i video, non c'era nulla, cioè io stavo benissimo così, però devo dire la verità che in alcuni momenti, nei primi periodi, forse sinceramente quando il mio canale è cresciuto un po', chiaramente. Il tuo canale è cresciuto tanto, in maniera abbastanza veloce? Sì, e chiaramente anche io sono rimasta colpita, ovviamente, e sinceramente probabilmente da alcune persone avevo percepito un pochino di, non so esattamente che termine usare, come se diffidenza, ma più, quasi come se fosse un distacco a caso nei miei confronti, però io stessa mi domandavo quale potesse essere il motivo, anche perché io davvero ho sempre fatto video anche un po' per avere uno spazio mio dove essere me stessa a parlare, io quello che ho sempre voluto fare nei video ASMR è sempre stato quello di dare voce ai miei pensieri e potendo aiutare anche le persone che magari si sentono sole, che non hanno nessuno con a parlare oppure che hanno qualcosa di irrisolto, perché io stessa se mi trovo in una situazione così mi piace sapere che una persona può ascoltarmi, quindi io tornando alla domanda mi chiedevo perché avercela con una persona che ha un pochino di successo, chiamiamolo così e infatti probabilmente da una serie di cose ho capito che in realtà forse da alcune persone c'era effettivamente questa cosa, perché tuttora non lo so e spero che la cosa poi sia stata si sia dissipata nel tempo, però probabilmente era legata, non so, al mio aspetto fisico, anche se io non ho mai pensato forse per questo. Ma intendi cioè per il modo in cui tu ti poni con il tuo aspetto, per la confidenza che hai con te stessa, oppure semplicemente per il tuo aspetto fisico per il tuo essere comunque una bella ragazza, cosa intendi? Probabilmente sì, ma credimi io non ne ho mai fatto un punto di forza, anche perché i primi video che facevo ero praticamente sempre struccata, tra l'altro ero in un periodo in cui ero un pochino trascurata fisicamente per alcune cose e sinceramente era proprio l'ultima cosa che io volevo... Vabbè, la bellezza non c'entra niente col trucco, sei bella, credo. E chiaramente, non è che sto dicendo che io non mi piacessi sti cavoli di come venivo, no? Però il fine dei video era quello. Era quello, certo. E ho capito più che altro che molto spesso, in maniera anche legittima magari, tra colleghi ci possa essere quel qualcosa di... come chiamarlo? Invidia, una brutta parola. Competizione. Competizione, ecco. Non mi sento di chiamarla invidia perché l'invidia è brutta, cioè ti porta... Dai, forse è molto forte la parola invidia. Sì, certo. È chiaro che la competizione ti porta a volerti migliorare sempre di più, anche basandosi sugli altri, è giusto. È anche un qualcosa che ti spinge a produrre e ti spinge a... A fare meglio. Sì. E... Però... Chiaramente... Mi auguro che non sia veramente invidia, perché non è proprio la parola. Quindi comunque tu pensi che il fatto di mostrarsi una ragazza a posto con... A suo agio, diciamo, con il proprio corpo, per esempio, e di essere anche una ragazza piacente, obiettivamente, possa generare... No, è la verità. Non c'è la verità. Possa generare comunque qualcosa che possa disturbare qualcuno. Ovviamente non penso tutti, perché credo che tutti abbiano questo pallino. Però magari hai avvertito questo. Allora, Federica, su questa cosa sono sicura che tu sei d'accordo con me. Io non sono dell'idea che una persona, se è bella, deve mettersi un sacchetto in faccia. E devi dire, no, io sono brutta. No. Cioè, se una persona ha qualcosa di bello, che sia fisico, mentale, culturale, perché rinchiudere questi pregi? Cioè, il falso mito dell'umiltà e della modestia. Esatto. Ti devi nascondere. Io e te ne abbiamo già parlato. Sì, è vero. E personalmente la mia idea non è equivalente al binomio bellezza o quale persona se la tira oppure ottiene qualcosa con dei falsi mezzi. Perché comunque la bellezza, per quanto sia una cosa che hai o non hai, o che è comunque soggettiva, in ogni caso, chiaramente non è che tu hai scelto di essere così. Ok? Capisco che dici. E quindi, sinceramente, quando sento anche solo parlare, anche in altri contesti, del fatto che se una ragazza è bella, deve avere quell'atteggiamento di No, io faccio schifo, per forza. Perché? Perché? Perché comunque, anche per quanto riguarda ciò che si dice, perché uno deve sempre dire Eh no, però c'è qualcuno meglio di me, sicuramente. E comunque, tornando alla domanda, se veramente qualcuno pensa che la bellezza sia un cattivo mezzo di utilizzarvi video ASMR, io ho proprio una cosa che non comprendo. E anzi, ho potuto leggere conversazioni tra altre persone pubbliche, ovviamente, che mi hanno lasciato davvero sorpresa e che guardavano appunto la figura femminile nei video ASMR Come se, anche se una persona è particolarmente bella o ha qualcosa che può sembrare maliziosa, anche se non lo è, venire demonizzata in maniera industa. Questo secondo me è una cosa molto sbagliata, perché nessuno sa realmente cosa c'è dietro una persona, nessuno sa qual è il percorso che una persona ha fatto dietro quello che sta facendo. Anche se una persona, magari, si mostra perché lo deve fare con malizia per forza, oppure magari tu, persona, che giudichi, non puoi sapere realmente qual è il percorso che ha fatto quella persona. Magari dietro, per esempio, c'è un'accettazione di sessizia. Magari c'è un lungo percorso per arrivare a quella accettazione, no? Certo. Quindi, in ogni caso, tornando alla domanda, sinceramente non mi è mai successo di avere un commento o un parere legato alla bellezza. Cioè, nessuno mi ha mai detto, eh, però Sara tu fai video, no? Se qualcuno lo ha pensato di me, non me l'ha mai detto, però posso averlo magari percepito, letto tra le righe. Ok, sinceramente mi metto un po' tristezza, un pochino. Non essere triste. No. Senti, chiudiamo in bellezza, dai. Visto che abbiamo parlato di bellezza, chiudo con una domanda che farò a tutti gli ospiti, sempre alla fine di ogni intervista. Ok. C'è qualcosa che non hai mai fatto e che vorresti assolutamente fare nella tua vita? Quelle cose che, sai, non farle costituisce un grande rimpianto intanto quelle cose. Ma se c'è, che cos'è nel mondo dell'ASMR? No, in generale nella tua vita. Ah, personalmente riuscire a prendere l'aereo senza morire ogni volta. Perché mi piacerebbe andare in America e tipo saranno tre anni che vorrei andarci, ma magari sembra un'assurdità, ma per prendere l'aereo è un po' come avere tre parti contemporaneamente. Però invece un sogno è quello di sentirmi realizzata e costruirmi una mia realtà, tipo imprenditoriale. E quindi in realtà il sogno è quello di non mollare mai, perché non so se è un sogno però. Bene Sara, grazie mille per essere stata mia ospite, che ho facciato un cincinne con il nostro tè. Speriamo che qualcuno ci abbia seguito fino alla fine, che sia stato interessante questo video. Fatemi sapere qui sotto se avete magari altre domande che vorreste porre a Sara, magari lei risponderà nei commenti. Leggete l'info box perché linkerò il suo canale in modo che possiate andare a dare un'occhiata. E basta, noi ci vediamo, se vi ho, al prossimo video. Bacini fatosi. Ciao a tutti. Adesso, tocca a te. Hai già lasciato il mi piace? Iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista. Oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della Fairy Crew. Ah, e se vuoi continuare a rilassarti, clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno. Penso possano piacerti. Buonanotte.